Oggi l'Italia sarà deferita davanti alla Corte di Giustizia Europea e un po' la colpa è anche di Frosinone. Tre infatti le questioni su cui il bel paese non si è messo in regola. La diffusione della xylella fastidiosa, l'individuazione di un sito unico nazionale per le scorie nucleari e il superamento delle soglie di concentrazione di PM10. È il primo passo verso una multa che potrebbe arrivare anche a un miliardo di euro. Quello degli sforamenti di PM10 è un problema ben noto al Frosinate e in buona parte della provincia, con le città più popolate, costrette sempre più spesso a fermare il traffico per il continuo superamento dei limiti previsti dal piano di qualità dell'aria. Le maggiori criticità sono a Frosinone e nei vicini centri di Ceccano, Alatre e Ferentino. Nel capoluogo sono stati già 40 i giorni dall'inizio dell'anno in cui le centraline dell'ARPA situate in città hanno rilevato il superamento dei limiti di polveri sottili nell'aria. A Ceccano sono stati 36 i giorni di superamento. Il limite annuale di superamenti, passato il quale è necessario intervenire per contrastare l'inquinamento atmosferico, è fissato in 35 giorni, già bruciati nei primi cinque mesi. Ma c'è di più, sui tavoli europei è finito anche un esposto presentato da Fareverde Frosinone, che con una nota inviata alla Direzione Ambiente della Commissione Europea aveva lamentato la non disponibilità pubblica dei dati relativi alla qualità dell'aria e quindi l'avviso di pericolo estemporaneo per la popolazione. Ancora una volta, hanno commentato ieri dall'Associazione Ambientalista, Fareverde ha avuto il dono di Cassandra, ma è anche il caso di dire che non esiste sordo più sordo di chi non vuole ascoltare.